ciao ragazze benvenuti.it io sono sempre francesca la vostra brafitter e oggi vi volevo parlare del reggiseno minimizer più venduto nel nostro sito in particolare sto parlando della modellistica se magnifique di chantelle ma partiamo dal principio che cos'è un reggiseno minimizer ed è vero che il reggiseno minimizer è l'unico modello in grado di ridurre il seno allora sfatiamo un po' questo mito ecco diciamo così il reggiseno minimizer è quel reggiseno che va a ridurre otticamente quindi una riduzione ottica quindi riduce otticamente il volume del seno perché non fa altro che spingere il diciamo il nostro seno quindi il suo contenuto verso il busto verso proprio noi stesse e il laterale quindi il reggiseno minimizer riduce la proiezione del seno verso l'esterno che effetto da poi una volta indossato questo reggiseno sicuramente un reggiseno che effettivamente fa un buon lavoro ottico è un reggiseno che però per l'appunto tende ad allargare leggermente il seno verso il lato in questo in questo video vi dico anche che questo tipo di effetto spesso non viene molto gradito da chi non ama sentirsi il seno nel laterale o magari vuole essere più libero nei movimenti io sono per abbastanza convinta del fatto che in realtà qualsiasi reggiseno della taglia giusta riesca anche a minimizzare il seno nel senso che ci valorizza lo toglie dal dalla pancia lo solleva gli da una forma e quindi ci valorizza però effettivamente ci sono delle costruzioni come in questo caso il minimizer che vanno a fare anche proprio questo lavoro di riduzione ottica quindi un reggiseno che possono scegliere quelle persone che proprio non accettano assolutamente il proprio seno e ce ne sono tantissime non vogliono assolutamente vedersi un seno troppo proiettato in avanti è un reggiseno molto comodo è comunque uno dei reggiseni più venduti al mondo più venduti in italia e più venduti confermo anche nel nostro sito quindi è comunque un reggiseno molto molto bello e adesso vi spiego come è fatto allora intanto è il reggiseno che si inizia a vendere anche di più d'estate perché ha una struttura completamente priva di cuciture questa è una delle caratteristiche dei reggiseni minimizer e ha un pizzo piatto quindi non si vede assolutamente neanche se mettete qualcosa di aderente questa è la costruzione vi faccio vedere anche la colorazione nera quindi nero e nudo sono i due colori basici e quindi questo pizzo come vedete è completamente invisibile perché non ha proprio nessuna tridimensionalità all'interno il reggiseno minimizer è costruito con una coppa presagomata quindi una coppa preformata perciò vuol dire che non è imbottita ma vuol dire che questa coppa è stata appoggiata sopra una speciale pressa e ritagliata quindi per questo si usa la parola preformata e la cosa interessante del reggiseno è che il ferretto è rigirato come vedete la coppa rimane cucita dentro reggiseno ci si appoggia sopra e diciamo incapsulato in una sorta di guida se vogliamo in silicone che al suo interno qui nell'interno del cotone della speciale costruzione del ferretto va ad ammortizzare ulteriormente il ferretto quindi chi ha dei seni anche molto molto grandi e mal sopporta il ferretto con questo tipo di modellistica va a sentirlo molto poco perché proprio il reggiseno diciamo ammortizzato come se stessimo parlando insomma di una macchina che ha le ammortizzazioni la colorazione anche che interessante che vi mostro è rosa che una colorazione limited edition che però molto bella anche per l'estate questo rosa chiaro di nuovo vedete che la costruzione interna non cambia quindi c'è questo ferretto rigirato e molto molto morbida perché appunto è ripassato nel silicone ve lo ridico perché è una cosa molto interessante e poi abbiamo una coppa che sale molto coprente sale nel lato con una vestibilità molto abbondante quindi reggiseno che arriva fino alla coppa i ma una i che veste che veste tanto e poi ha un bel dorso alto ve lo faccio vedere anche sul manichino questa è una coppa molto piccola perché è una terza f però già si vede qui che abbiamo comunque una bella schiena nei nelle taglie più grandi qui ho una 90 h quindi una sesta h vedete che il dorsale diventa proprio molto molto alto per andare anche a fasciare e a coprire bene tutta la zona laterale questo perché appunto spingendo nel lato non dobbiamo aver rischio poi di avere qualcosa che fuoriesce nel laterale quindi siamo ben contenute i colori quindi che trovate disponibili di questo reggiseno sono il nudo per l'appunto velo centro che è questo basico il rosa che è un colore in limited edition e ovviamente il nero che è sempre un continuativo la cosa interessante del se magnific è che la spallina non è estremamente larga ed è molto pulita è ammortizzata diciamo anche questo perché è un tessuto molto bello e molto morbido all'interno che va proprio a distribuire il peso e quindi anche questo lo rende un reggiseno estivo perché non ha una spallina che poi si intravede troppo e il fatto proprio della costruzione che cambia vedete dietro qui abbiamo già una differenza molto vi faccio vedere due dorsali diversi su due taglie diverse proprio per farvi capire che quando comprate dell'intimo come in questo caso con le coppe differenziate c'è uno studio veramente pazzesco di come regolare tutte le parti del reggiseno quindi taglia più piccola e taglia più grande il dorsale si alza questa diciamo questa particolarità succede appunto all'aumentare della taglia e va proprio a coprire bene e a dare maggior sostegno al reggiseno che fa taglie che vanno dalla 70 alla 100 con coppe come vi dicevo appunto dalla coppa d alla coppa i qui uno sviluppo molto molto abbondante considerando che chantelle rispetto ad altri marchi presenti nel nostro sito veste come leggermente largo nel sottoseno e con una buona coprenza di coppa quindi veste anche una coppettina in più tranquillamente attenzione che vi faccio questo piccolo questa piccola premessa le taglie del nostro sito sono le taglie europea e europee quindi in cartellino di chantelle dovete guardare la eu quindi questa europea e non la francese attenzione fate caso a questa cosa perché una delle diciamo delle ragioni per cui spesso si fa confusione fra le franze le taglie francesi e le taglie europee che sono simili ma non sono uguali noi parliamo in europeo che sostanzialmente corrisponde alla misura in centimetri del vostro sottoseno questo per anche essere più chiari nel momento in cui io scelgo un reggiseno e vedo che la taglia è 100 e so di sicuro di non avere 100 di sottoseno ecco che mi dovrebbe almeno accendersi la lampadina e preoccuparmi che non sia la taglia corretta se avete bisogno di aiuto per individuare la taglia corretta del reggiseno come sempre possiamo fare la consulenza taglie che è gratuita il nostro numero di whatsapp 339 87 93 795 poi ve lo scrivo qui sotto lo trovate anche nelle informazioni della pagina e se volete venire a provarlo qui nel nostro unico punto vendita autorizzato red velvet punto it potete farlo prenotando il vostro appuntamento vi ricordo che riceviamo solo su appuntamento allo stesso numero spediamo in tutta italia gratuitamente a partire da 50 euro di minimo d'ordine quindi è facilissimo fare gli ordini gli acquisti online potete utilizzare qualsiasi metodo di pagamento oltre a questo modello ovviamente di chantelle abbiamo anche tutto il resto quindi se vi piace della marca che indossate avete il cartellino a casa è facile poi anche individuare con la taglia europea lo ripeto la taglia di acquisti da acquistare della stessa della stessa marca se avete comunque qualsiasi dubbio potete scriverci in modo di essere certe lo trovate come sempre su www.redvelvet.it mi raccomando non fatevi scappare questa novità e ricordatevi che fino al 7 maggio online ci sono veramente delle interessanti offerte per fare acquisti e acquistare insomma la vostra lingerie preferita noi ci vediamo domani per altre novità e non perdetevi il se magnifico che è magnifico in tutti i sensi è un reggiseno ricordo minimizer quindi riduce otticamente la dimensione del seno nel nostro online oppure qui al nostro showroom di camisano ci vediamo domani buon pomeriggio e buono shopping su www.redvelvet.it ciao